shock afano uccisa in casa una coppia di coniugi settantenni interrogato il figlio urbino ha il suo sindaco il ballottaggio premia maurizio gambini al suo terzo mandato giunta biancani nel segno della continuità unica novità il ritorno di sara mengucci mira il fiore dopo la morte per overdose parte un viaggio guidato nei luoghi dello spaccio grandi ospiti grande pubblico giù il sipario sulla sessantesima mostra del cinema di pesaro benvenuti al nostro telegiornale di oggi lunedì 24 giugno che apriamo con una terribile notizia di cronaca c'è stato infatti un duplice omicidio a fano una coppia di coniugi ultra settantenni è stata trovata senza vita in casa con evidenti segni di violenza al momento si indaga sul figlio della coppia che ha dato l'allarme ma le indagini sono tuttora in corso partiamo così fano sotto shock per il ritrovamento senza vita dei coniugi ricci avvenuto questa mattina marito e moglie pensionati vittime di un duplice omicidio all'interno della loro abitazione di via fanella 127 giuseppe ricci 75 anni conosciuto ai più come giorgio è stato trovato esanime con lesioni fatali alla testa procurate da un corpo contundente la moglie luisa marconi 70 anni è stata invece ritrovata con evidenti segni di soffocamento è stata presto esclusa l'ipotesi di omicidio suicidio il quadro che si è delineato agli inquirenti ha circoscritto le morti ad atti di violenza procurati da una terza persona soprattutto il corpo di giuseppe ricci mostrava indizi di una colluttazione con un aggressore a dare l'allarme questa mattina è stato il figlio della coppia luca ricci che allertato i vigili del fuoco per forzare alla porta dell'abitazione dei genitori che non rispondevano alle sue telefonate alle 7 30 di mattina l'ingresso in casa la macabra scoperta e l'allerta polizia e carabinieri intervenuti sul posto con scientifica squadra mobile di pesaro e commissariato di fano sul posto oltre i dirigenti di polizia paolo badioli e stefano seretti anche il capo della procura maria letizia fucci che sta coordinando le indagini la casa è stata trovata a soccuadro ma non sembrano emersi segni di effrazione alla porta il figlio della coppia 50 anni separato e padre di due figli è residente al piano superiore della palazzina si è da subito dichiarato e strano ai fatti ma è stato sottoposto a interrogatorio a perquisizione domiciliare e al prelievo del dna il particolare che è emerso è che la casa in questione era stata venduta all'asta lo scorso settembre e che proprio oggi ci sarebbe dovuto essere un incontro col nuovo proprietario per perfezionare la cessione dell'immobile si indaga su una presunta storia di debiti dello stesso figlio luca alla base della vendita dell'appartamento ed ora cambiamo argomento andiamo a parlare di politica perché urbino sceglie ancora maurizio gambini il ballottaggio infatti premia il sindaco uscente della coalizione di centrodestra che al secondo turno di chiamata alle urne batte lo sfidante di centrosinistra federico scaramucci lo spoglio delle 20 sezioni si è concluso questo pomeriggio e maurizio gambini ha vinto con il 53,08 per cento di preferenze contro il 46,92 per cento di federico scaramucci gambini si guadagna dunque il terzo mandato da sindaco di urbino per la prima volta col status di capoluogo a scaramucci non è bastata l'alleanza programmatica con il terzo polo della lista civica futura di maria francesca crespini formalizzata dopo il primo turno di votazioni l'affluenza di urbinati alle urne è stata del 68,4 per cento di aventi diritto al voto nel turno precedente era stata del 70,9 da urbino passiamo a pesaro iniziata infatti la prima settimana della giunta comunale di andrea biancani per il nuovo sindaco una squadra di governo nel segno della continuità si riparte nel segno della continuità la nuova giunta comunale di andrea biancani sindaco di pesero ricomincia nel solco dell'eredità di matteo ricci confermati otto assessori su nove sebbene con qualche modifica di delega l'unica novità è rappresentata da un ritorno quello di sarà mengucci che rientra in giunta dalla quale è scienzo belloni che nel primo consiglio comunale di giovedì sarà proposto come presidente dell'assise curiosità sarà una giunta maggioranza femminile con cinque assessore e quattro assessori ho cercato di dare continuità cercato di mantenere le deleghe degli assessori che avevano ritenuto che avevano fatto un buon lavoro non sono per ripartire ogni volta da capo perché ripartire da capo vuol dire comunque riacquisire competenze vuol dire rallentare quella che è la capacità di riuscire a dare risposte ai cittadini e quindi per questo molti degli assessori sono stati riconfermati la novità è la sala mengucci che rispetto all'ultima giunta comunale non ne faceva parte o avevo detto che avrei voluto tenere e mettere insieme la delega i quartieri insieme alla delega le manutenzioni ho dato l'assessore della dora sia i quartieri che le manutenzioni ho mantenuto l'assessore pozzi la delega ai lavori pubblici perché sono oltre 150 milioni di euro i cantieri di opere pubbliche ho cercato di dare una buona di rafforzare il settore dell'ambiente ci sono due nuove deleghe che non erano previste la volta precedente che sono legate alla pesca e al mondo agricolo agricoltura maria rosa conti che resta assessora all'ambiente pesca la franco e lucci che resta assessora alle attività economiche e all'innovazione vimini rimane il vice sindaco con persecuzione del lavoro su cultura turismo e rapporti internazionali la delega al bilancio passapozzi con nobili che si occuperà di urbanistica ed edilizia privata continuità di competenze a istruzione e giovani per camilla murgia che prende anche la delega all'università continuità di politiche sociali per luca pandolfi che si occuperà anche di politiche della casa e dell'attuazione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche adesso partiremo con giovedì col primo consiglio comunale per poi partire con l'analisi di quella che è la squadra comunale perché ritengo che anche da questo punto di vista dovremmo fare delle modifiche per cercare di rafforzarla e per far sì che anche la macchina comunale si senta coinvolta e quindi anche loro fanno parte della stessa squadra ma dovremmo cercare come dire di rafforzarla e di renderli più partecipi per ottenere tutti quei risultati che abbiamo dichiarato nel corso di questi due mesi di campagna elettorale. Una squadra che dovrebbe contemplare anche Marco Perugini con un confronto in corso fra il sindaco e il presidente del consiglio comunale uscente. Del consiglio comunale non farà parte Luca Pieri che tornerà presidente Aspes. Stefano Donini primo degli eletti della lista al faro entrerà invece nel CDA di Ami Adriabus. Presentata in conferenza anche la nuova presidente del municipio di Montecicardo Marica Pierucci. Rapporti con Montecicardo che saranno una delle deleghe specifiche che manterrà lo stesso sindaco Biancani. La delega al municipio di Montecicardo che vorrò seguire personalmente mi sono tenuto la delega alle grandi opere cioè quelle opere che non sono di competenza di reata comunale come ad esempio il cantiere del nuovo ospedale, il cantiere di autostrada, i mosaici del Duomo, il tema del porto, come mi sono voluto tenere anche il personale perché ritengo che sia importante che il sindaco almeno in questa prima fase cerchi di confrontarsi e di portare avanti tutte quelle che sono considerate tematiche e strategiche per la città. E dunque per Biancani otto assessori su nove confermati dall'ultima giunta Ricci. L'unica novità di fatto è un ritorno, quello di Sara Mengucci che abbiamo intervistato. L'unico volto nuovo della giunta di Andrea Biancani è di fatto un volto che ritorna, quello di Sara Mengucci che dopo l'esperienza nella giunta Ricci interrotta a dicembre 2021 e il suo successivo inserimento nel CDA di Marche Multiservizi, torna ora alla base nella squadra di governo amministrativa e lo fa con competenze diverse rispetto alle politiche sociali alle quali si dedicò. Rimane la delega alle pari opportunità ma si aggiungono diverse delle competenze che furono di Enzo Belloni. Vedi viabilità, mobilità, bicipolitana, trasporto pubblico, rapporti con le partecipate, sicurezza e polizia locale. Per me è una sfida completamente nuova, sono deleghe nuove, credo che siano deleghe molto importanti perché hanno come obiettivo chiaramente quello di migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini, penso alla viabilità, le piste ciclabili. Le piste ciclabili hanno sicuramente rappresentato per tanti anni un valore aggiunto per la nostra città e credo che vadano sempre di più rafforzate e sempre di più migliorate. Penso appunto alla sicurezza, alla polizia municipale ma anche ad esempio a un tema molto importante come quello delle pari opportunità che mi sta veramente a cuore. Credo anche che sia fondamentale oltre che la collaborazione col sindaco che sicuramente ci sarà, anche la collaborazione con tutta la squadra, con la giunta perché le mie deleghe sono molto trasversali anche ad altre, quindi anche a tutto il tema delle manutenzioni, i quartieri e quindi credo che oltre alle nostre competenze, ai nostri obiettivi, a quello che vogliamo e abbiamo in mente per la città sia veramente importante cercare di lavorare tutti insieme. Quindi ringrazio ancora il sindaco per la fiducia e sono contenta perché per me è una sfida assolutamente nuova. E parte anche la macchina organizzativa di Fano dove al contrario la giunta è totalmente nuova, in ossequio alla svolta di centrodestra derivante dall'elezione del nuovo sindaco Luca Serfilippi. Sette gli assessori con quattro uomini e tre donne, a cominciare dalla vice sindaca Loretta Manocchi e proseguendo con Alberto Santorelli, Alessio Curzi, Gianluca Ilari, Loredana Maghernino, Mauro Talamelli e Lucia Tarsi. Ufficializzata oggi anche la giunta del comune di Gabice Mare della nuova sindaca Marila Girolomoni che ha scelto quattro assessori, tre dei quali già presenti nella giunta Pascuzzi, vale a dire Rossana Biagioni, Roberta Fabri e Roberto Reggiani. Nuovo assessore è il 27enne Matteo Sanchioni, nominato anche vice sindaco. Cambiamo argomento e torniamo a Pesaro dove dopo la morte per overdose di un 44enne pesarese trovato senza vita, venerdì pomeriggio nella boscaglia del Miralfiore si riaccende il dibattito sulla piaga sociale dello spaccio nel parco. Un tema è un luogo che conosce bene Alessandro Giardini, ex tossicodipendente e da mesi fondatore di una campagna di azioni antidroga. Tra queste una spedizione guidata a mostrare e spiegare i luoghi e le dinamiche dello spaccio. Domenica 30 giugno alla Miralfiore si terrà una camminata per il parco guidata da Alessandro Giardini, un ragazzo che è riuscito ad uscire dal tunnel della droga e che ora vuole combatterla. Sarà un tour per le zone rosse del parco che porterà i cittadini in cinque tappe significative e mostrerà loro come, dove e quando avviene lo spaccio e l'utilizzo di droghe al Miralfiore. Una passeggiata che visti i recenti fatti di cronaca, che hanno visto una morte per overdose proprio al parco, nella giornata di venerdì assume un significato ancora più profondo e importante. Stefano è morto venerdì, era un ragazzo che io conoscevo con ovviamente problemi di tossicodipendenza e ancora oggi diciamo la botta è fresca e in me c'è un mix, un mix di emozioni che vanno dalla rabbia, dalla tristezza ovviamente, dal dolore ma anche da una forte, da una grande forza che mi ha caricato ancora di più per raggiungere un obiettivo alla mia campagna di prevenzione, rendere lo spaccio dentro il parco una sorta di attività che la voglio far diventare difficoltosa per questi venditori di morte che purtroppo sono un cancro per la nostra società e quindi non è giusto che Stefano sia morto solo in mezzo di una boscaglia del parco Miralfiore mentre loro ancora stavano lì a vendere droga. Quindi l'obiettivo si allarga e oltre alla prevenzione e alla lotta della droga ci sarà proprio una lotta allo spaccio in quanto domenica sarà la prima di tante manifestazioni che io organizzerò dentro al parco nelle zone rosse diciamo, proprio le zone dove loro spacciano, proprio per dargli fastidio, noi non abbiamo paura, non ci facciamo problemi e andiamo avanti per la nostra strada. Ci racconti un po' questa passeggiata, come nasce la volontà di farla e soprattutto che percorso sarà? Lo spaccio avviene in queste zone dove noi andremo domenica 30 giugno dalle ore 17.30 e faremo questa camminata che io l'ho pensata come una via crucis perché due motivi, la vita di un tossicodipendente è un po' una via crucis diciamo e noi abbiamo messo giù proprio delle tappe in cui io farò vedere dove avviene lo spaccio, come avviene lo spiaccio, quando e come viene la compravendita e di seguito il cedimento della dose. Questo perché? Perché i cittadini pesaresi devono rendersi conto di quello che avviene. Del parco se ne parla in tanti modi, in tante sfaccettature, ma non è mai successo che una guida turistica diciamo del tossicodipendente perché io vengo da vent'anni di tossicodipendenza, organizzano un evento del genere. Quindi noi andremo nelle zone rosse dello spaccio del parco. C'è stato un incendio doloso ieri a Fano in zona Falcinetto dove un furgone telonato contenente materiale di falegnameria è stato completamente distrutto dalle fiamme con i vigili del fuoco che hanno circoscritto il rogo evitando che si propagasse al capannone circostante. Il camion e i mobili all'interno appartenevano all'antiquario Giorgio Tarsi che ha consegnato a vigili del fuoco e polizia immagini di videosorveglianza che mostrerebbero la dinamica di un grave atto incendiario volontario a suo danno. Le immagini che vi mostriamo ora documentano un intervento di salvataggio di una motovedetta della guardia costiera di Pesaro che ha tratto in salvo un surfista in difficoltà a largo dell'uscita del porto. L'uomo è stato caricato sull'imbarcazione e riportato sulla banchina dove è stato visitato da un'ambulanza per accertamenti. Ringraziamo quindi il nostro telespettatore Stefano che ci ha inviato queste immagini e vi ricordiamo come sempre il nostro numero whatsapp dedicato alle segnalazioni 370 366 72 10. E restando in tema di guardia costiera è arrivato il momento dei saluti per la comandante della Capitaneria di Porto Provinciale Claudia Di Lucca che lascia Pesaro dopo quasi due anni di servizio. Giovedì 27 giugno ci sarà l'avvicendamento con il nuovo comandante Nicola Gaudino proveniente dalla Capitaneria di Porto di Rimini dove ha ricoperto l'incarico di comandante in seconda. E questa mattina nella chiesa pesarese di San Luigi Gonzaga c'è stato l'ultimo saluto a Guido Mancini ex pilota straordinario costruttore di moto e scopritore di campioni. Io facevo cinque giri di Urbino al giorno, il giro dei 90 si chiamava, si partiva da Pesaro, si andava a Urbino, Fossombroni, Fano e Pesaro, ero sempre sulla morte insomma. Parcheggiate nel Sagrato le motociclette di mezzo secolo fa sulle quali corse e vinse. Fra le navate della chiesa di San Luigi Gonzaga tutto l'affetto e la commozione di una Pesaro dei motori che ha reso omaggio alla memoria di Guido Mancini. Guidino, come veniva chiamato, se n'è andato venerdì scorsa 85 anni dopo un periodo di ricovero a Galantara e dopo una vita trascorsa sulle moto e per le moto. Prima come affermato pilota, poi come straordinario tecnico, meccanico, costruttore e talent scout. Un'esistenza dedicata alle due ruote e ai piloti. Con le moto, uscite dalla sua officina di Via Pantano, ha svezzato bambini diventati campioni come Valentino Rossi, Capirossi, Dovizioso, Morbidelli o Fenati. Sapeva allevare il talento come pochi attraverso quel suo riconosciuto cacciavite magico capace di creare meraviglie di messa a punto. Nella chiesa di San Luigi l'abbraccio alla famiglia in mezzo ad un infinito scambio di aneddoti fra i tanti che hanno intrecciato amicizie e rapporti con un uomo davvero speciale. È iniziato a Pesaro il campionato europeo di maxi basket che la Fimba ha riportato in città dove mancava dal 2008. Le immagini che state vedendo mostrano la cerimonia inaugurale che sabato pomeriggio ha visto la colorata parata delle 200 squadre che hanno sfilato in rappresentanza di 29 nazioni. Un campionato continentale allargato anche a diverse squadre extraeuropee come Giappone, Brasile, Australia o Giordania presenti in una competizione di pallacanestro dedicata a cestisti di età compresa tra i 40 e i 75 anni. Atleti over che hanno sfilato con le loro bandiere partendo da piazza Agile Fava fino alla palla di Pomodoro. Sono in corso le 600 partite che si terranno in 20 impianti sportivi cittadini fino al 30 giugno. Si è aperta una grande manifestazione sportiva, si è invece chiuso uno dei più rilevanti eventi culturali di Pesaro 2024, quello di una sessantesima mostra del cinema davvero speciale. Chiuso il sipario sugli otto giorni dell'edizione 2024 della mostra del nuovo cinema di Pesaro, il cui già prestigioso sessantesimo anniversario è stato reso ancor più luccicante dai riflettori dell'anno di Pesaro capitale della cultura. Una grandissima offerta di proposte e grandissimi ospiti accompagnati da una costante presenza di pubblico rimbalzato dai grandi nomi alle nicchie del concorso che ha visto la giuria internazionale, composta da personalità di rilievo come Luis Mignaro, Julio Bressane e Miriam Mesier, decretare vincitore del premio principale il film Slow Shift della regista indiana Shambhavi Kaul. Il festival studia da sempre per esempio anche la commedia, quindi Ficarre e Picone, abbiamo dedicato un libro a loro, studia il cinema del passato e lo mostra in 35 mm, avete visto in spiaggia i film con Marcello Mastroianni e si proietta o almeno cerca di proiettarsi nel cinema del futuro attraverso anche una nuova sezione che è quella dedicata alla virtual reality Pesaro Nuovo Cinema VR ma anche al concorso Pesaro Nuovo Cinema che è la nostra Punta di Diamante perché sono film inediti, sono prime mondiali e sono accomunate appunto dalla ricerca del linguaggio cinematografico nuovo e quindi secondo me il passato del cinema che abbiamo detto, Mastroianni, il presente, Ficarre e Picone è connesso anche al futuro dei nuovi cineasti. È stata un'edizione all'altezza delle aspettative non solo della Capitale 24 ma anche di una sessantesima edizione, siamo molto contenti del risultato, del risultato di pubblico come sempre anche della partecipazione dei giovani studenti ma anche degli appassionati di cinema e anche di tutte le occasioni che la mostra in questa edizione speciale è riuscita a creare di connessione con la città e con le strategie della città, intanto ampliando come sempre il rapporto con i luoghi, dal cinema in spiaggia al muro del suono a Palazzo Gradari che è diventata una vera e propria rassegna musicale, interattiva di musica e di interazione di artisti con il cinema, il cinema circus per i bambini, insomma tanti filoni all'interno di una mostra che è sempre più a contatto con il pubblico ma anche con i turisti, con quelli che visitano la città. In particolar modo quest'anno anche la scelta di sposare due progetti, Cari e la città come legame con il festival di Sarajevo e in particolar modo anche la Corea Week, questa esplosione di scambi culturali di questi giorni con le città unesco della Corea a partire da Busan, città unesco del cinema della Corea e Degu per il cinema e quindi una mostra che diventa anche una piattaforma di scambi e di incontri tra persone, tra artisti, tra musicisti, tra cineasti, insomma veramente unica probabilmente nello scenario nazionale. A chiudere la rassegna è stata la proiezione dell'acclamato Challengers del regista Luca Guadagnino, insignito del premio Pesero Nuovo Cinema 60 e ultimo super ospite di otto giorni che hanno visto alternarsi in Piazza del Popolo anche Sergio Castellitto, Ficarre Picone, Valentina Lodovini, Jasmine Trinca, Enzo Dalò e Francesco Pannufino. Devo dire che forse è una delle edizioni più faticose perché è coincisa anche con l'anno di Capitale della Cultura che ha fatto sì che ci siano state tante cose di cui tenere conto, tante iniziative in contemporanea, farsi largo fra varie cose, però è anche inevitabilmente una delle manifestazioni di maggior soddisfazione perché veramente siamo stati accolti da un pubblico festante tutti i giorni e questa sera non è diverso dagli altri, un super ospite come abbiamo avuto tanti super ospiti in tutte queste sere, una piazza pienissima, sentiamo veramente forte il calore e la vicinanza del nostro pubblico che ricordiamo è un pubblico che viene un po' da tutta Italia, anche dall'estero, quest'anno ci sono state presenze dal Brasile, dagli Stati Uniti, dalla Palestina, dalla Corea del Sud, solo per dire alcuni paesi, quindi veramente un'occasione anche per parlare di Pesaro un po' in tutto il mondo. E allora davvero complimenti per questo grande successo della mostra del cinema di Pesaro e adesso siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale ma restate con noi perché subito dopo questa prima edizione c'è un nuovo approfondimento con tutte le informazioni che potete avere riguardanti Pesaro 2024, quindi restate con noi perché tra pochissimo c'è la nuova puntata di questa settimana. Mentre come tutti lunedì alle 21.20 in prima serata abbiamo una nuova puntata di Check Up Obiettivo Salute. Questa sera parleremo dell'importanza della radiologia e lo faremo con il dottor Fabrizio Balzi. E poi domani vi aspetto alla rassegna stampa puntuali alle 7.20, siamo in diretta sul canale 80, sulla nostra applicazione che vi consigliamo sempre di scaricare soprattutto adesso che è estate, magari siete in giro, siete in vacanza oppure sulla nostra pagina Facebook. E vi ricordo anche che tutte le puntate di Check Up Obiettivo Salute le potete rivedere sul nostro sito rossinetv.it. Buona serata.